ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto particolare perché ho tutto qui perché è un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da Lidl, Casanova se non mi sbaglio, Ikea e quindi ve li ho messi tutti in un video perché non mi andava di fare 300 video per far vedere una cosa poi due cose poi tre cose ve li ho messi tutti qua e andiamo avanti allora per prima cosa vi faccio vedere che ho preso le salviettine queste qui queste le utilizzavo quando i miei figli erano piccole me le mettevo in borsa le fresh and clean mi piacciono tantissimo perché hanno la parte che si chiude io vi faccio vedere che il pacco è aperto perché ce ne sono tre perché già uno lo metto ce l'ho in uso qui nella postazione io lo utilizzo per togliere gli swatch per dare una rinfrescata ma è difficile che lo utilizzo per il viso questo lo utilizzavo per il culetto dei miei figli oppure per le manine mi piace tantissimo che ha l'odore bello fresco e ha la chiusura questa qui ed è una cosa molto molto utile per non far seccare le salviettine andiamo avanti e sempre a lidl avevo preso questi colori a matita perché mi servivano per una cosa che poi vedete dopo sinceramente non avevo colori a matita cioè ragazzi non avevo colori a matita a casa perché io i colori a matita li avevo regalati ai miei nipoti perché ovviamente avendo i ragazzi grandi non è che si mettono a colorare però a me hanno detto che colorare aiuta tantissimo per quanto riguarda la mente tutto e quindi l'ho voluti prendere perché poi vi faccio vedere cosa ho acquistato e quindi ho preso i colori a matita poi ho preso anche queste che io adoro le penne paper matte e ho preso queste qui vediamo se sono uguali perché sono sempre della paper matte però sono credo colorate poi ve li farò vedere perché farò delle decorazioni poi le penne Bic non devono mai mancare penne a casa mia perché qui sono come i fermagli come le pinzette come le cuffie si volatilizzano e quindi dobbiamo acquistarle anche queste poi ho preso questo per cancellare credo che sia sì il cancellino il correttore scusate e quindi l'ho voluto prendere perché spesso capita che dobbiamo fare delle cose quindi mi serve una cosa che serve a casa serve poi sempre per quanto riguarda le penne paper matte ho preso anche gli altri colori quindi aggiungo anche questa nella lista poi vabbè questi l'ho presi da un cinese ho preso sia il deodorante questo qui mele e cannella e sinceramente fa un profumo pazzesco molto molto bello mi piace tantissimo l'odore ottimo e poi ho preso il ventaglio e questa volta l'avevo preso dell'italia e quindi ho preso il ventaglio poi sempre in questo cinese la mia migliore amica si è presa e l'ha lasciata qui ovviamente se l'ho dimenticata si è presa anche la bottiglietta questa qui quella che dovete mettere l'acqua per tenerla fresca o calda indifferente lei ovviamente la utilizzerà di più in estate perché gli piaceva tantissimo che aveva il gancio quindi la può mettere nello zainetto e portarsi l'acqua in giro io invece sempre all'idl avevo preso questa perché sinceramente mi piace di più perché la posso inserire dentro la borsa e la cosa che mi piace di più è che avete la chiusura tipo questa ovviamente è quella per i bambini e io l'ho presa perché mi piace tantissimo con i coricini ha la chiusura tipo che per i bambini ovviamente perché alzando questa levetta voi riuscite a aprire il beccuccio e bere invece se abbassate la levetta voi potete anche schiacciare ma la bottiglia non si aprirà e quindi è una cosa che mi piace e poi ovviamente è anche questa ermetica e quindi potete mettere quello che volete io ovviamente gli metto le mie tisane i miei tè quando vado da mia mamma li metto qua dentro e li posso portare benissimo oltre che è carina che la posso portare anche in questa maniera e quindi mi piace e poi entra benissimo in borsa che è la cosa che io cioè che mi premeva di più ho preso queste che sono le noci ne ho prese due confezioni una per stuzzicare per mangiare così e una perché devo fare un tipo di pasta con le noci e lo speck e la besciamella comunque devo fare un tipo di pasta perché Stefano dal canale oddio il nome ah ti ammazzasse comunque il ragazzo che abbiamo fatto la collaborazione che io gli ho mandato una cosa poi lui mi ha spedito un pacco dove c'era tantissima pasta io l'ho consumata tutta e mi sono rimasta un tipo di pasta che la vorrei fare con le noci lo speck e la besciamella quindi Stefano farò questo tipo di pasta quindi ti manderò la foto e quindi ho preso queste le noci e poi sempre nel cinese avevo preso questa agenda che mi serviva per perché non ho agenda ho preso questa semplicissima agenda la metterò in borsa per scrivere le cose mentre sono in giro ed è a righe semplicissima molto molto semplice e mi piaceva tantissimo il colore con i fenicotteri quindi l'ho voluta prendere e poi per dirvi che io non ho agenda poi ho preso due ceste di queste qua che io utilizzo tantissimo per quanto riguarda dentro c'è un cavetto che non c'entra niente per quanto riguarda l'idl io queste ceste le acquisto sempre perché sono quelle che si richiudono e diventano così e io adoro queste ceste perché le utilizzo tantissimo per quanto riguarda stendere i panni e raccogliere i panni e quindi le ho voluti prendere ne ho prese due una questa che è con il verde e l'altra è tutta grigia che già ce l'ho in uso perché una si era rotta e quindi le ho volute prendere allora che cosa mi servono i colori? ho preso le agenda queste già da un bel po' che ce l'ho ma non vi ho potuto fare video perché ho avuto da fare quindi ve li faccio vedere adesso questi sono i miei momenti preferiti una di queste agende già è messa in un pacco che deve essere spedito a giorni qui abbiamo tutto per quanto riguarda i colori, decorare e tutto se volete un video dettagliato me lo scrivete e ve lo faccio vedere proprio direttamente perché ho preso tutte le versioni ho preso sia questa questa che è un'agenda caro diario cioè caro diario è un'agenda del 2020-2021 vi faccio vedere anche questa nella parte di dentro ci sono delle decorazioni quindi non vedo l'ora di decorarli passarmi il tempo perché sono molto stressata e dicono che colorare ti butta via lo stress quindi ottimo poi ho questo make every day special quindi i momenti più speciali credo che sia e anche questo è molto molto decorato quindi poi in caso scrivetemi e vi farò il video direttamente e l'ultimo che vi faccio vedere è questo nero molto molto bello anche questo e anche questo con tutte le decorazioni tutte cose che si possono fare sono veramente ottime e quindi ho deciso di passarmi il tempo oltre che ne ho tantissimi sinceramente di questa agenda ma mi piace tantissimo disegnare colorare anche un modo per distogliere il pensiero da distogliere il pensiero da altre cose quindi sinceramente mi servono mi servono veramente poi sempre all'IKEA sì è sempre all'IKEA sempre all'IDL ho preso i fazzolettini questi qua piccoli perché a certe volte mi porto la borsa quella piccolina se devo andare tipo devo fare delle cose tipo ad esempio oggi stiamo andando che Michela deve finirsi il tatuaggio quindi sto portando la borsa piccolina è inutile portarmi il pack di fazzolette enormi porto questo qui piccolino e lo metto nella borsetta e quindi ottimo poi faccio un salto a destra e a sinistra perché molte cose non me le ricordo allora siamo stati all'IKEA perché gli abbiamo preso alcuni mobili per quanto riguarda i ragazzi poi vi farò un video della stanzetta com'era e come viene e ho preso questo per quanto riguarda la pulizia delle pentole piatti e tutto io spesso mi capita di strofinare quindi utilizzo questo perché mi ci trovo bene aspetta poi sempre all'IKEA gli ho preso i piumoncini e gli ho preso questo ditemi se vanno bene perché gli ho preso questo qui allora i loro letti sono quelli di mondo convenienza e sono quelli in pelle tipo imbottite glielo ho presi così spero che siano buoni sono normale una piazza e gli ho preso il piumoncino questo qui che è quello che c'ha anche la mia migliore amica e dice che è ottimo però è sempre una piazza io sinceramente volevo una piazza e mezza per venire lì un pochettino più grande però avevano soltanto questo una piazza e quindi gli ho preso questi e gli ho preso questa diciamo fantasia per quanto riguarda il copripiumino e il coprifedera sono dei maschietti la stanza andrà sul grigio e nero e quindi gli ho preso questi che hanno proprio dei disegni con il grigio chiaro e grigio più scuro con un fondo bianco spero ovviamente che siano carini anche messi nel letto e poi ovviamente vi farò vedere il tutto perché non credo mentre vi farò il video che già la stanzetta si sarà fatta poi per quanto riguarda l'ikea se non mi sbaglio è tutto perché poi abbiamo preso la cassettiera la Elmam quella grande poi mi sono presa la cassettiera per questa stanza perché era scontata la Alex la Alex sapete che costa sulle 100 euro ma io l'ho presa a 85 se non mi sbaglio o era 90 io l'ho presa a 85 comunque non mi ricordo la cosa diciamo perché era scontata c'era bianca e blu e io l'ho presa a blu ma la rivestirò con delle delle strisce in adesivo con il nero per metterla qui dentro quindi me la sistemo poi sono stata da Casanova sì da Casanova e ho preso questo per stirare le camicie io voglio vedere se è buono perché lo voglio utilizzare anche per le tende perché mi capita spesso di fare il nodo alla tenda per varie cose che faccio a terra eccetera eccetera e poi mi rimane il segno e quindi è una cosa che non sopporto e voglio provare se toglie quella stiratura diciamo se la piega delle tende spero che lo fa poi vi farò sapere ovviamente comunque può essere utilizzato anche per le camicie io lo voglio utilizzare anche per i vestiti sapete le giacche che le giacche non è una cosa che voi lavate spesso e quindi voglio vedere se riesco a utilizzarlo anche per questo motivo questo l'ho pagato invece di 20 euro cioè il 35% di sconto l'ho pagato 13 euro perché era 19,90 e l'ho pagato 12,90 quindi questo allora poi ho preso questa che è una scopa elettrica questa ha il filo però io volevo quella senza ma non l'ho trovata e ho preso questa qui con il filo allora la scopa veniva 50 euro ma poi io l'ho presa con il 55% l'ho presa sulle 30 e qualcosa se non mi sbaglio 35 se non mi sbaglio e ho preso questa e l'ho presa su Max Casa che si trova vicino Douglas sotto e poi ho preso delle tazze queste le ho prese per i miei figli per fare la colazione perché loro utilizzano questo tipo di tazze dove c'è scritto tipo cappuccino espresso tipo cappuccino americano tipo queste cose così e invece di 4,90 l'ho pagato 2,94 infatti tutte sia la scopa che queste due cose sono venute 44,81 perché ne ho preso ovviamente due avendo due figli ovvio che ne ho prese due e sono queste le ho prese identiche perché voglio che loro ce l'hanno uguali mio figlio di solito fa la colazione con i Gallox quindi li metterà i Gallox là dentro e quindi gli piace così poi questo dove l'ho preso non mi ricordo forse no questo è del Lidl sì poi avevo preso sempre al Lidl questo che è uno spray per i vestiti della V5 perché l'avevo visto in un video allora io guardo spesso i video di tantissime persone e molto spesso gli faccio lo screenshot per quanto riguarda le cose da acquistare e poi vado ad acquistarle quindi non mi ricordo chi mi ha consigliato cosa quindi questo mi è stato consigliato da qualcuno ma non mi ricordo sinceramente e lo voglio utilizzare proprio per i vestiti per vedere come viene uno smacchiatore ovviamente poi sempre da Casanova ho preso delle cose sempre per quanto riguarda la stanzetta dei ragazzi e ho preso le fodere queste qui per i materassi ho preso queste non sono riuscita a fargli il materasso come volevo io nel senso molto più grande della loro statura perché è difficile farlo e poi costa un sacco di soldi sinceramente non capisco il motivo perché se i ragazzi sono alti e grandi c'è una che ci può fare la stanzetta è piccola quindi comunque questi sono due federe per quanto riguarda due materassi perché sono letto singolo sono 180x200 più 25 cm quindi questo io mi ci trovo bene sinceramente perché io il lenzuolo di sotto lo metto ma mettendoci questo non gli metto soltanto quello e basta ovviamente poi gli ho preso le fodere dei cuscini perché mi servivano ovviamente perché gli ho comprato anche i cuscini nuovi buttiamo tutto perché gli ho comprato sempre da casa nuova i cuscini questi qua antiallergici eccetera gli ho preso questi ovviamente ne ho presi due per i ragazzi sono in queste buste e quindi ottimo anche questo poi sempre perché ovviamente non ho mai niente da utilizzare per bere tutto ho preso questa borraccia questa bottiglietta che è una bottiglietta detox perché spesso mi capita di andare all'erboristeria e prendere alcune diciamo erbette per digerire perché ho problemi di digestione e quindi le inserirò qua dentro oppure gli metterò la frutta poi vedo io cosa inventarmi mi piace tantissimo perché avete la possibilità di inserire il contenuto qua dentro in questa bottle in questa borraccia e poi alla chiusura la potete portare in giro perché ha il manichetto e quindi ve la potete portare in giro questa era segnata 6 ore e 50 e poi l'ho pagata con lo sconto e poi ho preso un'altra bottiglia sempre scontata che è l'ultima cosa che vi faccio vedere se non mi sbaglio sì sto dando un'occhiata sì l'ultima cosa un'altra bottiglia Stefania e la sua fantasia delle bottiglie mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluta prendere è bellissima veramente questo colore mi piace tantissimo ha anche questa il manico che la potete portare in giro e poi è di una plastica dura e mi piace tantissimo la fantasia cioè è bellissima la fantasia l'adoro e poi è così è trasparente con il tappo e sinceramente io queste cose le acquisto proprio per invogliarmi anche nel bere perché è una cosa che mi dimentico sinceramente ed è una cosa sbagliatissima non bere niente ragazzi questo è tutto spero che i miei acquisti vi siano piaciuti ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti in generale se comprate anche voi questo tipo di tazzetta per fare colazione è tutto e mi sto dando un'occhiata ok ho finito ditemi ovviamente cosa ne pensate dei miei acquisti se vi sono piaciuti non vi sono piaciuti io ovviamente aspetto i vostri commenti e sapete tutti che vi rispondo ci vuole un po' di tempo perché dipende quello che faccio però rispondo io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao